Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta Nesquik. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, uova, lievito, Nesquik, olio di semi di girasole, latte, vanillina, la scorza di un limone e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la vanillina e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Li uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. e li facciamo montare per 10 minuti a velocità 5. Aggiungiamo adesso il latte. L'olio. La farina. il Nesquik. Il lievito. E un pizzico di sale. ed azioniamo il bimbi per un minuto e 30 secondi a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampo del diametro di 22 centimetri ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Torta Nesquik. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.